Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità, buona tardi a nostre job web e per me vengo poi vengono alla infezza il lockdown, pandemia, ma usate di piacere molto più piccolare contro il movimento anche per me vengono, anche per me, per me è visto che è stato un bingo regresso di Alame di Awe, 5 Mei di 2021 Finalmente il nostro bingo bag. E' un'alegria immenso per a me, per me disegruirei con la donna. E' quello che mi piaceva. Finalmente, il nostro gizzer è attivare le cose che ci sono stati in casa. Per esempio, il Early Bird. Se io compro un carto per me, con il Dio Dio Soro, con un carto miembro, per andare al Early Bird per partecipare. E' un ultimo di sabra di luna, per 500$. E' un carto di bingo messa, che è da 7$ per 8$. E' progressivo. Il Bingo è, che ci sono stati in casa a 417. E' una zona di delle donne, per le due 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 da 50 ml. E' un'alegria, con gli amici. Assolutamente il nostro gizzer è attivare. E' un'alegria. Per me, per il viaggio di appare le persone che non avete cose che viaggiare, che è venduto a un'alegria, per informare le persone che si stesse in casa. Anche qui, come si è arrivato dal convegno a 5 Stelle, 2021. E' la scettola che è presente. Quindi si è arrivato a tutti i tempi. già sabra e già domingo honor a che non messe alambra casino con los bingos criolli los bingos di ambiente, quindi potete cordialmente invita già web già sabra e già domingo nel alambra casino per su bingos quando comienza a web già web 5 di juli Grazie per la visione